La ricetta di Zaya lotta la disoccupazione sfruttando i primi segnali di ripresa economica del Bassanese. La donna che investì Giulia compilò una falsa autocertificazione di idoneità al rinnovo della patente. Da quattro mesi sono senza stipendio, ora dormono davanti all'azienda, l'appello a Rete Veneta. Falsi tecnici del gas stanno truffando gli anziani, spacciandosi per inviati del comune. I residenti lanciano l'allarme, moria di pesce, una sostanza biancastra sul canale Crea. Mussolente, i bambini delle elementari, protagonisti di una festa delle tradizioni contadine. Buonasera a voi telespettatori da Tatiana Lunardone e da tutta la redazione di Bassano OTG. La ricetta di Zaya è sfruttare i primi segnali di ripresa economica del Bassanese per rilanciare l'occupazione. Secondo il presidente Zaya ci sono le condizioni per una ripresa dei consumi. Intanto annuncia la Pede Montana sta diventando una realtà. La Pede Montana è un tassello basilare sul quale far viaggiare lo sviluppo di un'intera area. Se le dimenticanze del governo centrale avevano finito col mettere addirittura in dubbio i finanziamenti per l'opera, il pressing della regione su Roma si è risolto per il meglio. I fondi ci sono, il bilancio, il quadro economico della Pede Montana Veneta, della superstrada Pede Montana Veneta, chiuso. Sono 2 miliardi e 130 milioni di opere, 36 comuni, 99 chilometri e 16 caselli peraltro nei quali è prevista l'esenzione per i residenti. Detto questo noi dobbiamo sostanzialmente solo che agevolare la prosecuzione dei lavori, che sono lavori ormai finanziati nella totalità e per cui la Pede Montana è un obiettivo raggiungibile. Intanto nel Bassanese si intravedono i primi timidi segnali di ripresa economica nell'attività delle industrie, ma la ripresa non potrà dirsi completa finché continueranno a registrarsi problemi sul fronte occupazionale. La ripresa senza posti di lavoro vuol dire affammare i cittadini, affammare i cittadini vuol dire non avere più consumatori, non avere più consumatori vuol dire non avere più produzione. A me sembra che questa logica ci faccia capire che noi dobbiamo allocare ricchezza nelle buste paga. Un lavoratore che guadagna 1200 euro costa all'azienda 2500-2600 euro. Dobbiamo quindi investire sul fronte di dar più soldi in busta paga ai lavoratori che saranno degli ottimi consumatori e così riparte l'economia, come accade negli altri paesi. E il Veneto continua la battaglia contro gli sprechi dopo la vittoria nell'applicazione dei costi standard in tutte le regioni del Veneto e italiane. L'assessore Ciambetti annuncia l'impegno ad estendere il provvedimento a tutti i settori della pubblica amministrazione italiana. Rimanevano 3-4 regioni a difendere l'indifendibile e poi alla fine la maggioranza è uscita con questa volontà di partire addirittura con gli ultimi due mesi di 2013 e soprattutto col 2014 con una verifica delle spese e della qualità della spesa nelle singole regioni perché specialmente in questo momento il sistema Italia non si può permettere questo spreco. Non è stato facile riuscire a imporre a tutte le regioni italiane l'applicazione dei costi standard in sanità. Ma ora il patto per la salute sottoscritto dalla conferenza delle regioni prevede da subito l'eliminazione di quelle differenze di spesa, a volte esorbitanti, che caratterizzavano le politiche sanitarie locali italiane. Una vittoria del Veneto in una battaglia che ora la Giunta Zaia intende continuare a tutto campo. L'applicazione dei costi standard di 30 miliardi verrebbe su tutta la pubblica amministrazione. In ambito sanitario il risparmio si aggira attorno ai 5-6 miliardi, ma non intendiamo che questi 5-6 miliardi vengano ridistribuiti all'interno delle regioni, fra le regioni che invece spendono bene i soldi pubblici. Quindi quello che stiamo facendo nella sanità, ci auguriamo che questo governo, che non mi pare sembra cogliere questa cosa, lo possa trasformare in un'iniziativa che vada anche negli altri settori della pubblica amministrazione. Tematiche sanitarie, bilancio positivo dopo le aperture serali dell'ospedale di Bassano. Liste d'attesa in calo. Liste d'attesa al San Bassiano, dopo l'avvio delle aperture serali di precisi servizi, la situazione, fino a poco tempo fa drammatica, pare sia migliorando, come conferma il direttore generale dell'Ulstre Antonio Compostella. La situazione è buona, con qualche piccolo problema nell'erogazione delle prestazioni a 180 giorni, ma nell'A e la B, ovvero entro 10, entro 30, 60 giorni, siamo nella norma come indicato dalla regione. Quindi bene. Questo obiettivo è stato raggiunto anche grazie all'aiuto dell'implementazione dell'attività con le aperture serali e nel weekend per quanto riguarda le prestazioni radiologiche, perché ci ha permesso di smaltire un po' di quella coda, di quell'appesantimento delle liste che avevamo soprattutto per le ecografie, per la risonanza e anche in parte per la TAC e adesso praticamente le attese stanno rientrando proprio nella piena normalità. Certo, la situazione potrà ulteriormente migliorare una volta che entreranno completamente in vigore gli interventi dettati dalla riorganizzazione sanitaria regionale. La riorganizzazione futura che vedrà la sua applicazione nell'arco di un anno, un anno e mezzo, due al massimo, potrà dare ulteriori frutti. Al momento i risultati sono legati ad iniziative e organizzative o riorganizzative delle singole aziende proprio sullo specifico tema. Da quattro mesi sono senza stipendio e dalla scorsa settimana dormono davanti all'azienda. Attraverso Rete Veneta i dipendenti dell'ex Lametal lanciano un appello, non abbandonateci. Dalla settimana scorsa dormono davanti alla propria azienda. La speranza è di salvare il posto di lavoro, ma i dipendenti dell'ex Lametal di Valstagna aspettano anche quattro mesi di stipendio. Una situazione drammatica per 40 famiglie che si sentono abbandonate al proprio destino. Da chi deve arrivare la risposta? Tra la gente a Bassano ci sono pochi dubbi. È una cosa seria, insomma, per tutte le aziende così, metalmeccaniche, un po' insomma della Valata e anche del resto d'Italia, perché siamo tutti in crisi. L'economia è una conseguenza delle scelte politiche che sono state fatte. Adesso è troppo tardi per uscirne. Non è ottimista? No, non sono ottimista. Se manca una politica seria, come fa ad andare avanti le cose? La gente ha bisogno di denaro per spendere, per mandare avanti, per continuare il progresso, diciamo. Tutto diminuisce e invece già all'inverso tutto aumenta. Giusto? E allora l'economia non può girare. Non possono essere in pochi a pagare solo tasse, solo tasse, solo tasse, perché l'altra gente non può ne comprare, ne fare niente ed è ovvio che l'economia si blocca. Rete Veneta ha incontrato i lavoratori dell'ex Lametal. Nei nostri telegiornali avete ascoltato le loro storie. Non abbandonateci anche voi, hanno detto, e Rete Veneta si è presa l'impegno di sostenere la causa di queste famiglie in difficoltà. Attraverso i nostri telegiornali continueremo a tenere destra l'attenzione su quanto accade a Valstagna, anche chiamando in causa la politica, dagli amministratori locali fino al presidente della regione Luca Zaia, che ha sempre dimostrato sensibilità per i temi del lavoro e i problemi di coloro che sono stati colpiti dalla crisi. E proprio alla situazione dei dipendenti dell'ex Lametal di Vastagna, dedicata al nostro Tg linea aperta di questa settimana. Lametal, 40 famiglie chiedono aiuto. Chi le ascolta? Come sempre diteci la vostra opinione inviando un sms, un fax o una mail ai numeri che state vedendo in sovrimpressione. Rosà, Rossano, Tezze e Cartigliano. Quattro comuni si uniscono per aiutare le donne in difficoltà con uno sportello in numero attivo 24 ore. E Bassano? È una dimostrazione di come i comuni riescono a fare rete e possono fare rete velocemente perché è un'iniziativa alla quale noi ci stiamo lavorando da un paio di mesi non di più ed è un'iniziativa che è andata tutta in discesa. Rosà e Rossano Veneto, Cartigliano e Tezze sul Brenta, uniti a difesa della donna. I quattro comuni si sono accordati per la creazione di uno sportello intercomunale per offrire informazioni, ascolto, accoglienza, sostegno e accompagnamento alle donne vittime di qualsiasi situazione di difficoltà. Rosà, a partire dal prossimo 19 di novembre, offrirà alle donne un servizio di uno sportello quale punto d'ascolto per le donne, proprio a 360 gradi, inteso ad arrivare a tutte quelle donne che in qualche modo hanno qualche difficoltà ad approcciarsi a livello sociale piuttosto che aiutarle in problematiche economiche, con i figli, con il lavoro. A Rosà lo sportello si trova dalle suore di Belvedere in via nazionale, ma c'è anche un numero telefonico attivo a 24 ore su 24. A Bassano uno sportello analogo ci sarebbe, ma non godrebbe del sostegno del comune, cosa che rende più difficile il funzionamento di quella rete di tutela delle donne in difficoltà che avviene altrove. Non è così scontato che un comune sostenga un'iniziativa del genere? No, non è scontato, la nostra rete, la possibilità che noi abbiamo avuto di aprire questo sportello insieme vuole essere di esempio anche per i comuni vicini, per dare in modo veloce e pratico alle donne di poter accedere tranquillamente a questo sportello. Non aprite gli sconosciuti, i falsi tecnici del gas stanno truffando gli anziani spacciandosi per inviati del comune. Attenti ai falsi tecnici del gas, l'SOS arriva da 9, ma in questi giorni sono davvero tante le telefonate giunte anche alla nostra redazione di cittadini residenti tra Bassano, Marostica e Schiavon che hanno denunciato la presenza di truffatori che si spacciano per impiegati inviati dai comuni per sostituire o installare fantomatici apparecchi, chiedendo il pagamento in contanti di 249 euro. Un furto in piena regola, sono già diverse le persone per lo più anziani cadute nella rete ed è per questo che il primo cittadino di 9 lancia l'appello. Noi confermo non diamo nessun tipo di autorizzazione se non che a personale autorizzato e soprattutto ci stiamo avvicinando al Natale. Purtroppo questi furti in famiglia, queste forme così di vera malavita imperversano anche nei nostri territori, quindi con le forze dell'ordine, con il nostro maresciallo, con l'amministrazione, con le reti locali, con tutti, attenzione, non accettate, non date risposte a persone che vengono solamente per rubare, per truffare. Intanto si sta già diffondendo l'identikit dell'individuo che in questi giorni sta mettendo a segno i raggiri, con un tesserino di riconoscimento ovviamente falso e il sindaco Bozzetto è categorico. Non vi fidate, rimanete in casa e se qualcuno osa chiamate il sindaco, il maresciallo e le forze dell'ordine, noi siamo pronti a intervenire. Ed ora andiamo a Casoni di Mussolente dove i bambini della scuola elementare sono stati i protagonisti di una festa delle tradizioni contadine. Ortiche passione ma anche mestiere di una volta, sapore di oggi e di ieri con i segreti svelati dai nostri nonni per trasformare il mais in polenta, il latte in formaggio, l'uva in buon vino accompagnato dalle caldarroste cotte sul fuoco. Un vero tuffo nelle nostre tradizioni contadine, con protagonisti i bambini della scuola elementare Alessandro Vanzoni di Casoni di Mussolente, che per il quarto anno consecutivo hanno dato vita a una vera e propria festa tra passato e presente. I piccoli, già esperti coltivatori, hanno toccato con mano quanto studiato sui banchi di scuola, concentrandosi quest'anno in particolar modo su latte e derivati. E oggi tanto l'entusiasmo dei bambini. Qual è la cosa più interessante qui secondo te? Le castagne! È la cosa più interessante? Sìììììììì! E piacciono le castagne? Tanto, 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 tanto! La festa, è bella! I lavori di una volta! Così mentre i nonni hanno mostrato come si lavora il ferro battuto, come si intaglia il legno, come si lavora a maglia, all'uncinetto e si intrecciano le borse di paglia, i ragazzini hanno provato a mungere una mucca. Di compensato però! La pagina dell'Alta Padovana ci porta a Santa Giustina in Colle. Ci sono sviluppi sul tragico incidente che costò la vita Giulia Spinelli. La ventunenne travolta da un'auto è trascinata per tre chilometri. Emergono nuovi tasselli sulle condizioni della donna che la investì. Mentì quando compilò l'autocertificazione di idoneità fisica in occasione del rinnovo della patente di guida, barrando la casella del no alle domande se assumesse sostanze psicoattive e se fosse affetta da qualche patologia psichiatrica o neurologica. Fiorenza Benetton, l'investitrice di Giulia Spinello, non è idonea a guidare veicoli a motore perché affetta da una patologia cronica che cura con l'assunzione di psicofarmaci. È la sintesi della consulenza tecnica depositata qualche giorno fa in procura tra gli ultimi tasselli dell'inchiesta sull'uccisione della ragazza da appena 21 anni, travolta lo scorso 31 maggio dalla Jeep Cherokee, guidata dalla 63enne di San Giorgio delle Pertiche, trascinata per tre chilometri e mezzo. L'inchiesta avrà un'accelerazione perché il prossimo 30 novembre scade la misura cautelare degli arresti domiciliari disposti a carico della Benetton, indagata per omicidio colposo, guida in stato di alterazione da sostanze psicotrope e omissione di soccorso. Il medico legale ha spiegato che la donna si trovava in una condizione di guida in stato di alterazione psicofisica proprio nel momento dell'incidente. Nel suo sangue è stato individuato il prodotto di una sostanza psicotropa associata ad altri medicinali assunti e dotati di un effetto disabilitante. Dunque Fiorenza Benetton non doveva essere dichiarata idonea alla guida. Segnalazione di inquinamento a Vigonza nel canale Crea in corrispondenza di Via degli Alpini. Alcuni residenti hanno notato una sostanza biancastra che ricopriva come una pellicola la superficie dell'acqua. C'è di più perché gli abitanti hanno segnalato alle autorità competenti anche un'anomala moria di pesci sul posto i tecnici dell'ARPAV per le analisi. E tornano i martedì al cinema. La regione ti porta al cinema con 3 euro. Progetto di promozione della cultura cinematografica è realizzato in collaborazione con la federazione italiana Cinema d'Essè. Giunta quest'anno alla sua ottava edizione l'iniziativa coinvolgerà 23 sale d'Essè del Veneto e proseguirà nel mese di marzo e per la prima volta nel mese di maggio aumentando così l'offerta di cultura cinematografica. E prima di salutarci vi ricordo l'appuntamento con Iceberg in diretta questa sera su Rete Veneta alle 21.05 per approfondire le ultime notizie di politica ed economia. Ospiti di Marco Oliva, Vittorio Feltri, Antonio Di Pietro, Lara Comini, Fabrizio Politi e Luigi Furini. E il nostro telegiornale quindi termina qui. Grazie a voi per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro una buona continuazione di serata. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.